Special HIIT V2, total body ad alta intensità intervallata con cambi veloci e brevi recuperi. Iniziamo! Ok, iniziamo. Subito riscaldamento, subito saltellata e calciata. Respiriamo. Da subito respirazione naso-bocca, respirazione continua. 5, 4, 3, 2, 1 e cambiamo. Circonduzione spalle, movimento ampio, controllato, testa dritta, scaldiamo tutta la parte alta, spalle, braccia, deltoidi, 10 secondi e cambiamo il giro. Andiamo in senso anti-orario. 5, 4, 3, 2, 1 e cambio anti-orario, movimento sempre ampio, controllato, scaldiamo bene tutte le articolazioni prima di iniziare l'allenamento, 10 secondi e passiamo a distensione braccia in avanti. 5, 4, 3, 2, 1 e cambio distensione braccia in avanti, tocco e allungo, tocco e allungo. Ci aiuta a scaldare bene le braccia, riattivare i gomiti, 10 secondi e passiamo subito a un bel jumping jack per riattivare tutto il corpo. 5, 4, 3, 2, 1 e vado in jumping jack, jumping jack blando, da riscaldamento, reattivo, ci scaldiamo piano piano, progressivamente. Salto sull'avampiede, 10 secondi e passiamo alla fondo laterale da un lato. 5, 4, 3, 2, 1 e vai a fondo laterale, solo da una parte, senza forzare, ancora riscaldamento. è un movimento controllato, senza scendere troppo, scaldiamo bene la gamba, quadricipio e femorale, gluteo, 5, 4, 3, 2, 1 e cambio lato. Dall'altra parte scendo, spingo e risalgo, scendo, spingo e risalgo, testa dritta, respirazione sempre attiva, naso, bocca. 10 secondi e passiamo a camminata laterale più ginocchio su, 5, 4, 3, 2, 1, camminata laterale più ginocchio su, vai, cammino, cammino, ginocchio su. Vado col passo, doppio passo laterale e salgo col ginocchio, su, su, mantengo il ritmo. 5, 4, 3, 2, 1 e cambio in squat, iniziamo workout, allarghiamo le gambe, allarghiamo le punte, attiviamo uno squat completo quando il gluteo è in linea col ginocchio, scendo e risalgo. Mantengo il ritmo, respiro, ancora 10 secondi e cambiamo in pugno incrociato, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, pugno incrociato, addome contratto, pugno a destra e a sinistra, lavoro sulle gambe, reattività, testa dritta, aumentiamo un pochino, andiamo sempre a crescere, a salire, ancora, ancora 10 secondi e passiamo in step touch. Mantengo il ritmo, non mi fermo, pugno a destra e a sinistra, 3, 2, 1 e cambio step touch, mi sposto a destra e a sinistra, braccia che lavorano insieme alle gambe, testa dritta, respirazione sempre attiva, ci prepariamo all'affondo indietro, ginocchio su, 5, 4, 3, 2, 1 e cambio, affondo indietro e ginocchio su, lavoriamo solo su una gamba, affondo indietro, ginocchio sfiora il pavimento, risalgo, ginocchio su, mantengo il ritmo, utilizzate le braccia nel movimento per sincronizzare bene l'esercizio, ancora, 5, 4, 3, 2, 1, passiamo al pugno incrociato, pugno a destra e a sinistra, addome contratto, lavoro sulle gambe, non mi fermo, reattività, mantengo il ritmo, continuiamo, vamos, ancora 10 secondi e poi passiamo allo step touch, 5, 4, 3, 2, 1, step touch, mi sposto a destra e a sinistra, lavoro sia su braccia che gambe, mantengo la testa alta, respiro, ancora 10 secondi, abbiamo l'affondo indietro, ginocchio su, sull'altra gamba, quella che ci manca, 3, 2, 1, vai, affondo indietro e salgo col ginocchio, affondo indietro e salgo col ginocchio, mantengo il ritmo, respiro, testa dritta, addome contratto, controllo il movimento, utilizzo le braccia per l'equilibrio, 10 secondi e ritorniamo su pugno incrociato, 5, 4, 3, 2, 1, pugno incrociato, vai, addome contratto, posizione di difesa, sposto la gamba e pugno a destra e a sinistra, a destra e a sinistra, movimento continuativo, vamos, non ti fermare, non rallentare, respira, destra e a sinistra, destra e a sinistra, 5, 4, 3, 2, 1, e entro in step touch, respiro, riprendo fiato, respiro, non mi fermo, rimango sempre reattivo, 10 secondi e passiamo a squat più pugno incrociato, 5, 4, 3, 2, 1, vai, allarga bene le gambe, scendo e pugno a destra, scendo e pugno a sinistra, talloni ben appoggiati a terra, scendo con lo squat pieno, salgo e pugno a destra, scendo salgo pugno a sinistra, mantengo il ritmo, squat, pugno, squat, pugno, ancora, 5, 4, 3, 2, 1, e cambio subito in jumping jack, vai, jumping jack più veloce, più reattivo, mantengo il ritmo, salto bene sull'avampiede, le braccia sono ampie, le mani si toccano sopra la testa, il movimento ampio delle braccia per lavorare anche l'addome, manteniamo il ritmo e rispiriamo, testa dritta, vamos, 5, 4, 3, 2, 1, e ritorno in step touch, rallento, respiro, spostamento sempre a destra e a sinistra, siamo alle prime 78 calorie, vamos, 10 secondi e cambiamo in corsa sul posto, respiro, 5, 4, 3, 2, 1, e cambio, corsa sul posto, mantengo sempre il ritmo, non mi fermo, piccola corsettina, lavoro sulle braccia, testa dritta, corsa sul posto, approfitto per respirare, respiro, 10 secondi e ritorniamo in jumping jack, buttiamo fuori tutte le energie in questo jumping jack, 5, 4, 3, 2, 1, vai, cambio di ritmo, aumento, mantengo il jumping jack, movimento ampio delle braccia, salto sull'avampiede, testa dritta, mantengo il ritmo, non rallento, respiro per non andare in affanno, ancora 10 secondi e torniamo in step touch, pam, 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 vamos, 3, 2, 1, e cambio, step touch, respiro, riprendo fiato, movimento sempre continuo, non mi fermo mai, spostamento a destra e a sinistra, ci prepariamo a passo laterale su mezzo squat, tra 3, 2, 1, vai, passo laterale e mezzo squat, passo laterale e mezzo squat, la posizione è di mezzo squat con lo spostamento in passo laterale, prima a destra e poi a sinistra, destra e poi a sinistra, rimango sempre in posizione di mezzo squat, così attiviamo gambe e glutei, 3, 2, 1, e cambio in jumping jack, aumento la velocità, aumento l'intensità, mantengo il ritmo, movimento veloce, ampio, agile e respiro, pam, pam, ancora 10 secondi, abbiamo superato le 100 calorie, bruceremo ancora calorie, vamos, 5, 4, 3, 2, 1, e rallento in step touch, respiro, rimango sempre in movimento, non mi fermo, sempre respirazione attiva, spostamento a destra e sinistra, lavoro sulle braccia, ci prepariamo a torsione laterale, gomito ginocchio alternato, 5, 4, 3, 2, 1, da una parte e dall'altra, devo avvicinare il più possibile il gomito destro col ginocchio destro e viceversa, 10 secondi, attiviamo l'addome, attiviamo il core, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, andiamo giù a terra, plank su gomiti, 3, 2, 1, posizione del plank isometrico, corpo in linea, braccia in linea con le spalle, addome contratto, testa rilassato, testa rilassata, respiro, mantengo la posizione, 3, 2, 1, scarico, respiro, ripartiamo sempre col plank ma in movimento, 3, 2, 1, plank in movimento, mani in linea con le spalle, mi raccomando, testa dritta, il movimento della gamba, destra e sinistra, destra e sinistra, mantengo il ritmo, respiro, respiro, 3, 2, 1, recupero attivo, ritorniamo sul plank, questa volta plank ginocchio al gomito, 3, 2, 1, posizione del plank, braccia in linea con le spalle, avvicino il ginocchio al gomito, respiro, mantengo la velocità del movimento, non mi fermo, destra e sinistra, alterno bene i movimenti, 3, 2, 1, ancora recupero attivo, ci prepariamo per il plank in movimento, 3, 2, 1, vai, posizione, plank in movimento, destra e sinistra, destra e sinistra, mantengo il ritmo, respiro, addome contratto, testa dritta, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, ottimo lavoro, ancora plank, ora sui gomiti, 3, 2, 1, vai, gambe tese, addome contratto, testa dritta, respirazione sempre attiva, braccia in linea con le spalle, manteniamo l'isometria, non cedere col bacino, 5, 4, 3, 2, 1, ancora recupero attivo, ci alziamo in piedi, ci prepariamo per il mezzo squat, 3, 2, 1, mezzo squat, movimento lento, controllato, respiro, il mezzo squat è uno squat appena accennato, dove vado ad attivare gambe glutei, faccio lavorare anche le braccia, 10 secondi e passiamo a calciate i glutei, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, calciate i glutei, vai, salgo bene, talone glutei, faccio lavorare anche le braccia, approfitto per respirare, respiro, naso e bocca, calciate i glutei, spostamento continuo, non ti fermare, 5, 4, 3, 2, 1, ancora recupero attivo, mezzo squat più discesa in ginocchio, prendiamo il tappetino, 3, 2, 1, scendo, risalgo, scendo, risalgo, appoggio il ginocchio, risalgo, appoggio il ginocchio e risalgo, mantengo la posizione di mezzo squat, ancora, vai, 5, 4, 3, 2, 1, jumping jack facilitato, meno intensità, lavoro molto sulle braccia, le gambe vanno in calciata, mantengo il ritmo, testa dritta e respiro, ancora, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, in piedi più in ginocchio, movimento di discesa e salita, 2, 1, vai, scendo col ginocchio e risalgo in piedi, scendo col ginocchio e risalgo in piedi, ricordati di scendere prima col ginocchio destro e poi riscendere poi col ginocchio sinistro, alternando in entrambi le gambe il movimento, ottimo esercizio per attivare gambe e glutei, mantieni il ritmo, 5, 4, 3, 2, 1, jumping jack facilitato, vai, lavoro sulle braccia, lavoro sulle gambe, respiro, mantengo il ritmo, non mi fermo, ancora, jumping jack facilitato, vai, respira, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, squat jump in lenta discesa, 3, 2, 1, vai, scendi piano e un jump esplosivo, vai, scendi piano e un jump esplosivo, così, ancora piano e jump esplosivo, nel jump aiutati con le braccia, un bel salto esplosivo, attiviamo gambe e glutei, scendi piano, carica e jump, scendi piano, carica e jump, 3, 2, 1, skip incrociato, allargo le gambe, salgo con le ginocchia, respiro, tocco con le mani le ginocchia, mantengo il ritmo del movimento, lavoro sulle gambe, respiro, salgo bene, faccio lavorare anche le braccia, approfitto per respirare, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, ci prepariamo per lo skip più a fondo laterale, 3, 2, 1, vai, skip e a fondo laterale, skip e a fondo laterale, la fondo solo da un lato, quindi skipiamo e andiamo in a fondo laterale, ancora skip e a fondo laterale, lavoro bene sulle braccia in skip, pam 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 e a fondo, pam 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 e a fondo, mantengo il ritmo, 3, 2, 1 e cambio, skip incrociato, salgo bene con il ginocchio, respiro, respiro, sali e tocca, sali e tocca, mantengo il ritmo, non mi fermo, respiro sempre naso bocca, 10 secondi, non ti fermare, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, ci prepariamo per skip più a fondo laterale sull'altra gamba, 5, 4, 3, 2, 1, vai, skip e a fondo laterale, skip e a fondo laterale, lavora sulle braccia nello skip, vai, a fondo laterale, skip a fondo laterale, mantieni il ritmo, skip a fondo laterale, ancora, skip e a fondo laterale, 5, 4, 3, 2, 1, ok, skip incrociato, attiva subito lo skip incrociato, sali bene col ginocchio, mantieni il ritmo, respira, abbiamo superato le 200 calorie, vamos, mantieni il ritmo, non ti fermare, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, ci prepariamo per lo squat sumo, attiviamo gambe, glutei e interno coscia, 3, 2, 1, allargo molto le gambe, allargo molto le punte, discesa controllata e salita controllata, mantengo la posizione, testa dritta, respiro, scendo piano e salgo piano, mantengo il ritmo, 5, 4, 3, 2, 1, skip più slancio alternato, skip, skip, slancio, slancio, skip, skip, slancio, slancio, mantengo questo ritmo, respiro, non mi fermo, lavoro sulle gambe, respiro, ottimo lavoro, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, ci prepariamo alla fondo indietro più ginocchio su, 3, 2, 1, vai a fondo indietro e ginocchio su, lavoro solo su una gamba, il ginocchio sfiora il pavimento e risali, utilizzo le braccia nel movimento per controllare sia l'equilibrio che la tecnica, vai, scendo, risalgo, scendo, risalgo, affondo e sali, mantieni il ritmo, respira, 3, 2, 1, skip e slancio alternato, vai, skip, skip, slancio, slancio, skip, skip, slancio, slancio, prima a destra e poi a sinistra, skip, skip, slancio, slancio, mantengo il ritmo, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, abbiamo la fondo indietro, ginocchio su, sull'altra gamba, quella che ci manca, 3, 2, 1, vai, a fondo indietro, salgo su col ginocchio, controllo il movimento, controllo la tecnica, l'equilibrio, utilizzo assolutamente le braccia per sincronizzare il movimento, movimento pulito, tecnico, ginocchio sfiora il pavimento e salgo, vai, 5, 4, 3, 2, 1, skip, più slancio alternato, vai, skip, skip, slancio, slancio, ancora, skip, skip, slancio, slancio, mantengo il ritmo, non mi fermo, respiro, testa dritta, vai, ancora, ancora, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, squat più pugno incrociato, vamos, 3, 2, 1, vai, squat pieno, salgo e pugno incrociato, tallone ben appoggiati a terra, nella fase di squat e salita pugno a destra e salita pugno a sinistra, vai, ancora, mantengo il ritmo, squat pieno, salgo pugno, squat pieno, salgo pugno, 5, 4, 3, 2, 1, skip, più slancio alternato, vamos, siamo quasi a 250 calorie, ottimo lavoro, mantieni il ritmo, respira, non ti fermare, slancio, slancio, skip, skip, slancio, slancio, skip, skip, vamos, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, respiro, ripartiamo con corsa sul posto, 3, 2, 1, vai, corsettina sul posto, respiro, mantengo il ritmo, lavoro sulle braccia, non ci fermiamo, rimaniamo sempre comunque in movimento, respiro, respiro, 10 secondi e passiamo a torsione, 1, 2, 3, pugno, 5, 4, 3, 2, 1, posizione di mezzo squat, vai, torsione e pugno a destra, torsione e pugno a sinistra, vai, pam, 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 addome contratto, posizione di difesa, torsione e pugno, torsione e pugno, mantengo il ritmo, pugno e butto fuori l'aria, pugno e butto fuori l'aria, ancora 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, ci prepariamo a passo laterale su mezzo squat, 5, 4, 3, 2, 1, vai, movimento fluido, cerco sempre di mantenere la posizione di mezzo squat e mi sposto in passo laterale a destra e a sinistra, a destra e a sinistra, mantenendo la posizione di mezzo squat, vai, 5, 4, 3, 2, 1, pugno incrociato, addome teso, mi sposto a destra, mi sposto a sinistra, un pugno a destra e un pugno a sinistra, vai, testa dritta, lavoro sulle gambe, pugno a destra, pugno a sinistra, addome contratto, respiro, lavoro sulle gambe, pugno a destra e a sinistra, vamos, 3, 2, 1, recupero attivo, ci prepariamo al ginocchio al petto, prendiamo il tappetino, 3, 2, 1, scarichiamo, schiena ben aderente a terra, prendiamo il ginocchio o destro o sinistro, manteniamo lo stretching senza forzare, abbiamo fatto un ottimo allenamento e facciamo un ottimo stretching, 3, 2, 1 e cambio il ginocchio, allungo piano piano, vado a prendere l'altro, lo abbraccio senza forzare, mantengo la schiena aderente a terra, testa dritta, respiro, abbiamo bruciato, 3, 2, a cavallo la gamba sull'altra e vado in rotazione sulla gamba cavalata, movimento lento, controllato senza forzare, 5, 4, 3, 2, 1, risalgo, a cavallo la gamba e scendo nella direzione della gamba cavallata e mantengo lo stretching, respiro, sempre senza forzare, 3, 2, 1, stretching gluteo schiena a terra, a cavallo la gamba, mano sotto la coscia, mantengo la posizione di stretching sempre senza forzare, testa dritta, ginocchio ben aderente al pavimento, 5, 4, 3, 2, 1, stretching gluteo dall'altra parte, schiena a terra, cavallo la gamba, mano sotto la coscia, mi rilasso, chiudo gli occhi, respiro, testa dritta, abbiamo fatto un ottimo allenamento, ci serve un bel stretching finale, 3, 2, 1, il tuo workout è finito, ci vediamo al prossimo allenamento, VAMOS!